In compagnia di Giuseppe Le Venoci, ieri tipo gol ha sbloccato il match, sincero era un tiro Era un cross, era un cross, la volevo metto in mezzo, poi entro da dentro e niente, contento così Dopo questi infortuni mi sono ripreso bene penso, sono su tre partite di fila che gioco, pare che sto facendo belle prestazioni, speriamo di continuare così Quanto vale la tendenza di questa magia? Tantissimo, anche se non sono proprio di Giulianova perché sono nato in Puglia, però ormai Giulianova è casa mia Sicuramente è una partita difficile, sicuramente andiamo là per vincerla perché vogliamo andare avanti e niente, ce la metteremo tutte sicuramente per passare il tour E' un punto di forza questo per raggiungere l'obiettivo perché essendo tutti uniti ci aiutiamo tutti a vicenda ed è sicuramente più facile arrivare all'obiettivo Grazie a tutti